Aspettami! Ricordati, noi alle due in punto ce ne andiamo, d'accordo? Buongiorno! Così come va? Vediamo un po'. Ecco, ho beccato mia moglie a trafficare con le pentole. Tu trafficavi con le pentole? È stato lui! Giuro, ancora l'involtino di Sarmal in bocca. Fammi vedere. All'involtino in bocca. Devo allontanarmi un momento, scusate. Quando mai ci siamo tolti le scarpe in questa casa? L'ho insegnato così, entri in casa di qualcuno e ti togli le scarpe. Perché l'hai portata qui? Che vuole, eh? Che dovevo fare? Lasciarla per strada? Che volete che facessi? A proposito, perché non ci sediamo a tavola? Il prete non è ancora arrivato. Stiamo aspettando lui. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Dio una buona volta a quello che le vuoi dire. Cos'è la facciamo finita? Alla fine com'è? Il pompino è o non è adulterio? Non sarò stato uno stinco di santo. Può anche sbagliare l'uomo. E Milica. E Reli. E Luisa. E Carmen. E Getta. Chi è Getta? Ora possiamo mangiare finalmente? Sì, figlia. Alleluia. Alleluia. Luca.